Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Sì, lo so, la postazione è diversa dal solito, ma non temete, si tratta di una situazione momentanea data da orari e illuminazione, ma non voglio entrarne nel merito della questione, altrimenti il video durerebbe 4 ore e mezza. Detto questo, non so se vi è mai capitato durante la lettura di un determinato manga di dire ma che cosa sto leggendo, poiché la lettura in questione magari presentava delle scene molto over, come si suol dire, come per esempio rapporti non consensienti, torture e molto molto altro. Ve lo sto chiedendo perché a me ultimamente è capitato durante la lettura di un'opera chiamata Arredo of Healer, giunto in Italia grazie alla Magic Press e è diventato famoso sul web grazie all'adattamento animato uscito circa due o tre mesi fa. Detto questo, prendete dei pop corn, una bebita fresca e gustatevi quest'ultimo contenuto del vostro Malta, ma prima di far ciò, come sempre, mandiamo la nostra fantastica sigla. Innanzitutto vi mostro la copertina e vi racconto un pochino la trama. Ecco qui la copertina del primo volume dell'edizione italiana, edito dalla Magic Press con un prezzo di copertina di 6,90€. Ecco qui la copertina di questo volume con i nostri due protagonisti in primo piano. La storia vede come protagonista il giovane Keijaru, il quale è un guaritore e di conseguenza è capace di curare le ferite anche mortali dei suoi compagni. Per questo motivo quest'ultimo viene sfruttato brutalmente dalle persone che lo circondano e viene trattato come un vero e proprio schiavo. Un bel giorno però il personaggio principale si rende conto del potenziale che la sua magia propone e riesce a tornare indietro nel tempo a quattro anni prima, da cui inizieranno una serie di vicissitudini che ci porteranno alla vendetta del giovane Keijaru. E questa dunque è la trama di Redo of Healer, un manga che mi ha sorpreso più e più volte durante il corso della lettura del volume numero 1. Innanzitutto per i suoi personaggi, apparentemente buoni ma che in realtà tutti e nessuno escluso presentano del marcio all'interno della propria anima. A partire dal nostro protagonista, ormai segnato da tutte le torture che ha subito nel corso dei quattro anni in cui è stato un avventuriero. E infatti una volta giunto indietro nel tempo, incomincerà il suo piano di vendetta nei confronti appunto di tutte quelle persone che lo hanno bullizzato e schiavizzato nel corso della sua vita. E questa è una cosa che mi ha sorpreso particolarmente perché l'autore del manga non ha cercato, come molte altre opere simili, di presentare almeno inizialmente i personaggi come eroi. Anzi, fin dalla prima pagina ci hanno fatto capire come quasi tutti i personaggi del manga siano dei pezzi di merda, proprio detto così alla bruta. E da come, fin dal primo momento, abbiano trattato il nostro Keiyaru come una pezza da piedi. E questo ci fa empatizzare molto col personaggio principale, tant'è che non riusciremo, nonostante tutte le cose che quest'ultimo compirà nel corso della sua vendetta, ad affermare che quest'ultimo, scusate la ripetizione, sia il cattivo dell'opera, anzi lo possiamo considerare la vera e propria vittima del manga, segnato appunto da tutti gli abusi ricevuti nel corso della sua vita da questi personaggi indegni. Altra cosa che ho apprezzato particolarmente del primo volume dell'opera di Rui Tsukiyo è stato World Building. Infatti già da questo primo volume possiamo avere un'idea ben generale di come sia strutturata la società all'interno di Redo of Healer. E l'autore non molto implicitamente, anzi ci fa capire come la società sia corrotta e disgustosa come le persone che la abitano. E questa è una cosa che ho amato alla follia perché c'è stato un bel parallelismo con il personaggio femminile che abbiamo qua. Ma arriviamo dunque ai motivi per i quali io consideri questo manga abbastanza folle. Vi ricordate all'inizio quando vi ho detto che alcune opere presentavano magari scene di rapporti non consensienti, torture e molto molto altro? Ecco, Redo of Healer le ha tutte, nessuna esclusa. Infatti durante i suoi anni di prigionia visti all'interno del primo capitolo e non solo, il protagonista avrà subito qualsiasi tortura di ogni genere. E poi sarà sempre lo stesso personaggio nel corso della sua vendetta a diffondere amore, tra virgolette, a tutti gli altri protagonisti di questo manga. Tra l'altro, da quello che so, questo primo volume è uno dei più normali. Dal secondo Tankobon in poi, le cose degenereranno tantissimo e sono davvero curioso di vedere come la storia andrà avanti. Ma non temete, già da questo primo capitolo possiamo trovare delle scene abbastanza disgustose e ne vedrete delle belle. Non so se delle belle è accurato come termine, io direi più delle brutte, ma vabbè dettagli. Però, e qui devo essere sincero, tutte queste scene sono contestualizzate e fini alla trama. Di conseguenza non danno neanche troppo fastidio. L'unica pecca che ho trovato di questo manga è il fatto che sia stato censurato. Infatti all'interno del volume non vediamo manco mezza tetta e non capisco sinceramente il motivo, dato che l'anime non era stato minimamente toccato dalla censura e presentava scene molto esplicite. Nel manga invece è stato fatto l'esatto contrario, e stona secondo me con il tipo di opera che il nostro autore voleva darci, dato che certe scene sono parte appunto della trama e del contesto in cui l'opera avviene. E quindi non ho capito bene il motivo di tale scelta, ma vabbè. Ultimissima cosa, volevo dedicare circa 30 secondi ai disegni, i quali secondo me sono sì carini ma nulla di straordinario. Vi faccio vedere qualche esempio di tavola in modo tale che possiate ammirare la bravura di Soken Haga, ed ecco qui altri disegni. Ripeto, nulla di che, ma voglio spezzare una lancia a favore di Soken per quanto riguarda l'espressività dei suoi personaggi, davvero ben fatta. E questo era il primo volume di Redo of Healer, sono davvero curioso di vedere come la storia andrà avanti. Ho cercato di spoilerare il meno possibile in modo tale che se vogliate dargli una possibilità possiate farlo senza sapere la storia, o perlomeno i suoi dettagli. Detto questo, vi invito a mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati con le ultimissime novità di Maltality. Vi ricordo che in descrizione sono presenti il link per la pagina Instagram e quello per il gruppo Telegram, vi aspetto su quelle due pettaforme, e di passare per il mio canale Viola. Con questo noi ci possiamo salutare e ci vediamo dunque domenica in un prossimo video. Ciao!